del coro arrasa canto e voce bianche della corale Verdi, applausi, applausi, applausi per i suoi bambini. E' veramente una grande soddisfazione per voi, con la ragione di Giuseppe Verdi. Sì, soddisfazione è una fatica grandissima, perché è un'opera complicata, è un'opera che presenta dei problemi ritmici e modulante, nel senso che i frasi simili in realtà differiscono per avere particolari importantissimi dal punto di vista armonico e ritmico. E poi se ci sono i bimbi e i bimbi di riproduzione cambiano totalmente, sono 21 bambini, ed è stata media di 10 anni, però insomma è stato complicato montare più che altro, al di là della musica che comunque avevamo studiato, è stata una regia così cinematografica, fatta di dettagli, di particolari. E poi ovviamente quando un bambino incontra l'orchestra e ha le sue spalle, è stato un corso di adulti, però va, ci sono stato tipo Alice nel paese delle mie meraviglie, però devo dire che è stato divertente e soprattutto i bambini non ho capito per quale ragione, oltre a studiare il solfeggio, le parole, l'interpretazione, la parma lirica dove noi proviamo, dove la nostra sede correvano per la stessa sala, perché gli ho abituati immaginando che sarebbero entrati di corsa a cantare correndo, però insomma sono molto molto soddisfatta. Bene, anche noi ci sono piaciuti tantissimo, e poi c'è il gradino, fino a te, nel senso che è in terminazione. Noi di Gherardino, sì, sono anche sì dell'Ars che canto, sono due stasera che canta Luca Farraldi, le prossime si alternano con Erna e Stan Canelli, sono entrambi dell'Ars e si sono molto molto più fiera anche di loro due. Bene, riguarderemo con particolare attenzione Gabriele, grazie per questa intervista in diretta, ci fermiamo qualche istante pubblico.